Musica Cari amici benvenuti a questo nuovo video di Trivia Crack Heroes Siamo felicissimi che il primo episodio di questo gioco vi sia piaciuto Dopo aver smesso di registrare ho fatto altre 10 vittorie perché questo gioco mi sta piacendo parecchio E' tempo di fare un nuovo spacchettamento insieme a voi E speriamo che vada benissimo Oh 129 monete Nuova carta rara Fantastico Abbiamo trovato muro di fuoco che probabilmente è un'arma difensiva E se forse la bomba attacca direttamente la base nemica Questa potrebbe fare piazza pulita di tutti i nemici su una corsia Io direi immediatamente di provare ad usarla Ma vediamo subito in azione queste 3 nuove carte rare E speriamo vada tutto bene anche con le domande Vai subito dottore all'attacco Cosa sono le zecche? Sono degli... Nell'acni di... Ah davvero? Eh sì Mi fanno tutto schifo uguale non è che cambi molto Ok il protagonista di Breaking Bad Walter White Sì grande Vai anche Brenda tutte e due insieme dovemo fare un'ottima difesa Il nome di Hamburger da Hamburgo Hamburgo più senso effettivamente Ok subito con... Abbiamo anche il muro di fuoco ma aspetto un momento migliore Proviamo con Capitan Rose guardate 2004 Sì Guardate dove l'ha piazzata è già praticamente a metà corsia Facciamogli dare una mano anche da qualche squalettino Trisprayer Di certo non era il mio No non credo Proviamo a usarlo dai voglio provare Era nord di King Kong Ah muore anche il mio? No Ho visto morire anche il mio Ma una scimmia è un gorilla è una scimmia che la sua domanda era? Solo io ho visto morire il mio stesso dottore Devo stare attento a usare il muro di fuoco Guardate vai di corsa I mondiali di calcio del 34 del 38 Ovviamente in Italia Due mondiali di seguito grande Italia Come vedete te col Tom all'inizio va molto veloce Ma quando trova il primo avversario si rallenta Perfetto Harry Potter on Air Mione Intanto aspettiamo di avere 5 per buttarci di nuovo il dottore Che è un grande Che personaggio è Dominic Toretto Vai vai andiamo dall'altro lato che non c'è nessuno a fermarci Così magari gli buttiamo il muro di fuoco stavolta nel posto giusto Che è fatto appena arrivato Che bel nome Nel catore di Disney 4 di set in anni indossa gli occhiali Dotto Aspetta appena arriva Ecco vai l'attacco Lottalo Aspetta devo fare il muro di fuoco sopra Il muro di fuoco sopra Cosa produce l'ape? Il miele? Subito il miele Un sacco di cose produce l'ape Presto Mi serve miele Tutte e tre cosa Vai col muro di fuoco Subito Boom Ah non è morto però Mi sa che ho bisogno di una difesa aggiuntiva Ma ormai ho vinto Era sordo Beethoven Non so come facesse a fare le sinfonie da sordo Ma Beethoven è a Beethoven Grande vittoria e ce l'abbiamo fatta La cosa interessante di questo gioco è che se vorrete ottimizzare le vostre vittorie Dovrete giocare solamente una volta ogni 12 ore Perché altrimenti non guadagnerete lo scrigno bonus Questo può essere sia un bel metodo per evitare che uno poi ci si fissi Se voglia fare 100 partite uno dopo l'altro Sia per il fatto che comunque ti dà uno sprono a tornare ogni giorno a giocare Siamo pronti per un nuovo spacchettamento E cosa troveremo? 127 monete Una nuova Brenda Abbiamo trovato anche il tipo del sumo Nuova carta E la rocchettara Fantastico Ora vado a farmi altre 5 partite E ci rivediamo al prossimo spacchettamento Ed ecco infatti un nuovo scrigno pronto per essere aperto Vediamo che cosa troveremo questa volta nello scrigno medaglie Spero tante monetine Un'altra Brenda Se, se E di nuovo il tipo fantastico proveniente dal sollevante grandioso Andiamo subito a migliorare i nostri campioni Visto che abbiamo abbastanza soldi Potremo finalmente potenziare Brenda Che è molto utile Anche se avrei preferito anche un po' di dottori Ma ci dovremo accontentare Aumentiamo il danno e la salute della nostra vichinga E sono salito a livello 3 Quindi la salute della mia base passa a 6.000 Abbiamo appena potenziato un sacco Brenda Quindi direi che è l'occasione perfetta per utilizzarla Brasile Il Br... Ehm scusa Ma perché? Ci provo Allora smettila fammi leggere la domanda Vai Brenda avvicinati È uno scrittore Paolo Coelho Vai posso fare un altro dottore Doppio dottore Ormai ci siamo vicinissimi Brenda ancora un colpo e abbiamo vinto Grande vittoria contro il povero Salvatore Cucuzza Che comunque salutiamo perché sicuramente è un grandissimo caro amico Quale pineta prenderemo da Poseidone? Nettuno Dunque possiamo attaccarlo Magari qui sotto con lui E qui sopra con quest'altro Vai all'attacco Possiamo fare il contrario perché è più resistente a quello a quegli altri Pessima idea No Non me l'ammazzare Allora il nemico alle porte sta in grado Ora dobbiamo andare all'attacco e magari lo attacchiamo così Così riusciamo ad avere più fortuna perché almeno il nostro dottor Tox non perirà contro il suo Quanti con ci sono nella Corriere del Sud 4 Perfetto Andiamo dunque a dare un altro supporto sopra con la nostra rocchettava preferita Non è una unità di misura per la distanza la candela Chi usa le candele è una persona senza senso Andiamo Aiutiamo un attimo qui sopra perché purtroppo il vichingo è troppo resistente Quale gruppo musicale ha composto la canzone Ed Sandman in Metallica? Davvero? Perfetto Ci vuole più aiuto sopra? Ho paura Mi sa proprio di sì Vai dottore Libera la strada E andiamo verso la base nemica Dove si trova il freno? Nei pattini? Nell'artista c'è la rotelle? C'è il freno? Spero di sì Davanti Spero proprio di sì Ok Lui dovrebbe difendersi sotto E nel frattempo io lo attacco con il vichingo Dunque la vittoria questa volta dovrebbe essere assolutamente assicurata E potevo anche lanciargli la bomba ma ho sbagliato a cliccare e non ce l'ho fatta Ma abbiamo una nuova grande vittoria E siamo a 4 vittorie su 5 Quindi ce ne manca solamente una E potremo spacchettare nuovamente X-Avil vs Alice Ok ok aspettiamo ancora un secondo Katniss Il 12 E questo sotto Questo sopra E di nuovo la mia tattica per il momento è Dr. Tox e vichingo Naturalmente se ce l'ho in squadra Ha un'ancia doppia lobo Che cosa mi dici? Cos'è l'ancia? Figurati Ok Un po' di aiuto No mi sono svegliato troppo tardi Dovevo aiutare il dottore L'ho perso stupidamente Un grande rigbista Daniele immagino Carolina non credo Ok dai Supportiamo anche la sopra E avrei bisogno di un pochino più di forze sotto La città proibita è in Cina Di solito la Cina è sempre questa cosa un po' più strana Sotto proibita Dov'è la Polonia? La Polonia Credo che sia in Uzbekistan A memoria In Europa Ok mi serve qualche aiuto aggiuntivo No guarda Mi ha messo il dottor Tox contro il rigbista Pessima scelta Rio della Plata Mi piaceva il nome Vai Supporto sotto e non ci credo Grande super vittoria Mi dispiace Perché mi sa che stavolta è facile che io vinca Poi non è detto Che non è cricchetto Cricchetto Ma che dov'è cricchetto? Grande Troppo facile Peccato Comunque dipende tanto anche dalle carte che ti escono E dalle carte che hai naturalmente nella prima squadra Nuovo scrigno per me Andiamo immediatamente a vedere che cosa troviamo Voglio tantissime monetine 129 Abbiamo trovato di nuovo il Capitan Rose E poi altre carte Vediamo se con queste cose possiamo migliorare ancora un pochino la squadra Vediamo Sicuramente lei la voglio utilizzare spesso perché è molto forte E aiuta in tantissime situazioni Anche se vorrei assolutamente potenziare lui Perché adoro tantissimo Take All Tom È uno dei miei preferiti Insieme anche al dottore Poi volendo posso potenziare magari anche Capitan Rose Che in ogni caso mi sta servendo abbastanza E poi eventualmente terrò qualche soldo per le volte successive Però io voglio potenziare tutti Perché no? Dai mi fa piacere oggi potenziarli tutti Sono così simpatici Siamo a livello 3 Tra poi avremo anche livello 4 Ma le carte da scoprire Le abbiamo trovate quasi tutte Tranne il Cavaliere Però Come vedete da questa schermata Una volta ottenute più di 100 medaglie Potremo sbloccare degli eroi aggiuntivi Che al momento sono solo 4 Poi mano a mano che il gioco verrà aggiornato Sicuramente ce ne saranno degli altri Perché vi ricordiamo che è ancora in beta Comunque sia È già qualcosa di interessante Che non vedo l'ora di scoprire E al momento sono a 60 medagliette Quindi Prima dell'episodio 3 Se vi farà piacere Fatelo sapere nei commenti Perché ci vorrà parecchio tempo Per accumularne altre 40 Considerando anche che ogni volta che perdo Le perdo Quindi Se vedo comunque che tante persone Sono incuriosite da questo gioco E vogliono vedere Cosa succede a sbloccare anche Quelli più avanzati Ditecelo nei commenti In questo modo cercherò di impegnarmi A superare le 100 medaglie Per il prossimo video Noi vi ringraziamo di cuore Per essere stati con noi Su Trivia Crack Heroes E alla prossima Coglietta della Lab Ciao 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 Ciao